Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In primo piano la cronaca era uscito di casa per una passeggiata lungo il sentiero della Bonifica nella zona di Cesa ma non aveva fatto rientro a casa. Allora di cena è quindi scattata la richiesta di aiuto. Una task force di soccorsi si è messa in moto per le ricerche del disperso. Dalle 20 e 30 di ieri i vigili del fuoco hanno iniziato a perlustrare la zona insieme ai carabinieri, al personale del soccorso alpino, ai volontari della protezione civile. I pompieri aretini hanno messo in campo anche gli specializzati TAS topografia applicata al soccorso e al gruppo cinofili. Sul posto anche il personale dell'emergenza dell'Asd Toscana sud-est. Dopo circa otto ore di ricerche notturne l'uomo è stato individuato dai droni dei vigili del fuoco, si trovava ai margini del sentiero della Bonifica. Il 63enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari. È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Siena. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava camminando lungo il sentiero della Bonifica quando sarebbe caduto giù nel letto del canale nella zona del ponte in ferro della strada che da Cesa va a Castiglion Fiorentino. E cambiamo argomento. Domani si celebra la 73esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Previste manifestazioni in tutta Italia dalle sedi territoriali ANMIL. Bilancio 2023 meno incidenti ma crescono le malattie professionali. Ce ne parla Greta Settimelli. È assolutamente importante fare un ragionamento organico sul problema della sicurezza nel nostro territorio. Lo stiamo sollecitando alla Prefetto che sappiamo essere sensibili a queste situazioni ma a questo punto ci sembra davvero inevitabile fare un confronto anche con la sua torrevole presenza che possa richiamare le istituzioni perché non abbiamo solo il problema del trasporto pubblico. Il più recente le aggressioni in sanità dentro la sanità hanno creato un protocollo per cercare di superare queste situazioni ma è ovvio che dobbiamo parlarne in termini generali e cercare di trovare soluzioni anche con l'aiuto delle organizzazioni sindacali. L'ultimo appello in ambito territoriale in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro era stato quello della CISL, vigili del fuoco, polizia penitenziaria sotto organico ma anche continue aggressioni in sanità e nei trasporti pubblici. Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia è ancora un tema su cui lavorare molto. Anche il Santo Padre e il Presidente della Repubblica hanno lanciato i loro moniti. Eppure ogni volta che l'ANMIL quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla sua fondazione celebra la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro i dati sono inaccettabili anche se il lieve miglioramento. In Toscana gli infortuni denunciati sono calati del 16,4%. Ci sono stati però 29 morti nel 2023. Calo anche nella rettino del 13,6% delle denunce ma anche nel nostro territorio nel solo 2023 ci sono stati 3 morti e quasi 2.500 infortuni. I dati invece in crescita esponenziale sono quelli che riguardano le malattie professionali. In Toscana nel 2023 sono aumentate del 22% mentre nella rettino di quasi il 40, uno dei dati più alti in tutto il territorio toscano. Di questo ma soprattutto di prevenzione si parlerà nella 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro a cui interverranno tutte le istituzioni locali, il Presidente Territoriale di ANMIL Mirko Marinelli e il dirigente dell'INAIL di Arezzo Barbara Bonvini. E intanto da oggi per i prossimi 5 fine settimana la Polizia Stradale sarà impegnata in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 di novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. In particolare la Polizia Stradale presiderà le diverse province italiane, compresa Arezzo, insieme ai medici della Polizia di Stato con l'obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida è stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti. In questa direzione sono orientati gli sforzi operativi della Polizia Stradale che guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Relativamente a queste ultime un focus ha evidenziato che un'altra causa di incidentalità è la distrazione. Anche su questo fronte l'impegno della Polizia Stradale è alto e costante. Non a caso proprio ai giovani sarà dedicata la giornata conclusiva anche ad Arezzo di questa campagna preventiva. E ieri è partita la diciassettesima edizione del mercato internazionale. Sono previste in tre giorni 300 mila persone. In taglio del nastro abbiamo parlato con Franco Marinoni e Simone Chierici in merito ad alcune polemiche che ogni anno si riaccendono in concomitanza con la manifestazione. Sentiamo. Allora la prima variabile in queste iniziative è il tempo e se è questo abbiamo avuto anche purtroppo qualche edizione bagnata tra le diciassette. Questa è la diciassettesima. Se il tempo regge, la flusso e il massiccio è garantito. Saremo sull'ordine delle 300 mila unità registrate, presenza registrate nelle ultime edizioni e siamo certi che la gente che viene per questa attrazione poi scopre, se non la conosce, la straordinarietà di questa città. Quindi è una ricchezza che si spalma un po' su tutto il tessuto economico. Qualcuno reclama interventi meno popolari e più elevati, più di cultura. Io dico aggiungiamo a un evento così nazional popolare anche qualcos'altro di più elevato in modo che l'offerta di questa città sia complessivamente soddisfacente. Io direi che il cibo in genere incontra il favore degli utenti perché poi alla fine sembra strano ma dove c'è qualcosa da mangiare, possibilmente anche buono, c'è sempre tanta gente. Come si incrocia questo però con la proposta della città d'arte di Arezzo? Questo è un discorso oramai atavico, non è che il mangiare escluda la visita ai musei, voglio dire è una polemica a volte che viene fatta anche in maniera sterile, cioè una cosa non esclude l'altra, a volte tutte e due si completano perché, tanto per fare un esempio, nella prima settimana di gennaio quindi con la città del Natale in corso abbiamo avuto accesso ai musei numero indescrivibile, quindi è la conferma che le due cose possono tranquillamente convivere. I musei saranno visitabili in questo fine settimana? Come sempre. Ed è Aretino il vincitore della categoria Campagna Amica degli Oscar Green Regionali dei Giovani Agricoltori, si tratta di Jacopo Trasolini, di 29 anni, dell'azienda agricola Victoria Rose di Lucignano per l'agrocosmetica di alta qualità a base di kiwi contro l'invecchiamento della pelle. La premiazione ieri a Firenze è nel corso della celebrazione organizzata da Coldiretti Toscana. E adesso andiamo all'ospedale San Donato perché supereroi si calano dal tetto dell'ospedale per fare visita a sorpresa ai piccoli pazienti. Vediamo. Capitan America, Spider-Man, Iron Man e Dulca sono arrivati dal cielo per fare una visita a sorpresa ai piccoli pazienti del San Donato di Arezzo. Questo progetto nasce da un'idea, da un unico obiettivo che è quello di far passare una giornata di spenseratezza ai bambini che tutti i giorni sono dentro gli ospedali. E' una giornata per noi molto bella perché ci permette far sì di dare una mano a questi bambini attraverso un sorriso, un saluto e a affrontare una giornata di spenseratezza perché poi realmente i veri supereroi sono loro, non noi. I supereroi preferiti dai bambini, dopo essere scesi dal tetto dell'ospedale, hanno fatto visita ai piccoli ricoverati per regalare così una mattinata di spenseratezza e divertimento. Una giornata veramente molto bella perché è chiaro che i bambini che sono ricoverati vivono in un momento di particolare difficoltà e di fragilità. Quindi credo che abbiamo donato loro un sorriso, un momento di spenseratezza, una favola che è poi quella che i bambini hanno diritto di continuare a vivere ancora per tanti anni nella loro vita. E sempre al San Donato sono stati consegnati, attestati a 14 nuove mamme PIR, racchiusura delle iniziative promosse in città per la settimana mondiale dell'allattamento. Sono mamme che appunto seguono un corso di formazione che è anche abbastanza impegnativo con tirocinio pratico e sono mamme che hanno deciso di dedicare il loro tempo libero che non hanno, perché le mamme non ce l'hanno il tempo libero, a aiutare le altre mamme. Arezzo adesso potrà contare su 14 nuove mamme PIR, le mamme alla pari, donne che si mettono a disposizione per sciogliere dubbi e paure delle neomamme adeguatamente formate dall'ASL con un corso teorico e pratico. Aiutarle nell'allattamento, ma aiutarle anche un attimo nel rifasare quel momento iniziale che è tanto bello, ma a volte può essere anche un po' complicato o comunque un po' disarmante. Quindi avere davanti un'altra mamma che è in grado di capire quello che le stai dicendo, qualsiasi cosa tu le voglia dire, e di aiutarti magari a incanalare la strada giusta per essere il più serena possibile. A conclusione del percorso di formazione sono stati consegnati gli attestati alle nuove mamme PIR, una giornata che si inserisce in chiusura delle iniziative promosse in città per la settimana mondiale dell'allattamento. Come azienda teniamo fortemente a questo, le mamme PIR sono una realtà importante che danno valore anche ai nostri percorsi. Le mamme PIR sono presenti nei consultori, sono presenti in ospedale, nel nostro rooming in, e lavorano insieme a noi, con noi, come mamme alla pari, però come supporto importante per gli operatori. Per cui noi ringraziamo tantissimo Carlotta e tutto il gruppo che in questo momento noi certifichiamo e insieme a tutte le altre mamme già certificate. Una settimana di screening e consulenze per il benessere dei reni nelle farmacie comunali di Arezzo. Vediamo. Una settimana di screening e consulenze per il benessere dei reni. Il percorso di educazione alla salute promosso dalle farmacie comunali di Arezzo metterà a disposizione dei cittadini una settimana dedicata alla prevenzione delle malattie renali fino a sabato 14 ottobre. Una forma importante di prevenzione rappresentata dalla misurazione gratuita della pressione per tenere sotto controllo i valori in caso di familiarità con patologie renali e cardiologiche, diabete, ipertensione e obesità. La pressione alta, infatti, può essere conseguenza e causa di nefropatie. Un altro test utile è rappresentato dagli stick per i parametri urinari, di cui sarà dotato lo sportello infermieristico della farmacia Campo di Marte ad Arezzo. In pochi minuti e con affidabilità permetterà di ottenere una prima valutazione dello stato di salute dei reni attraverso parametri quali la presenza di proteine o zuccheri. La settimana prevenzione delle malattie renali dunque rappresenterà un'occasione per approfondire queste tematiche facendo affidamento sulle esperienze e le conoscenze del personale delle farmacie comunali per consigli e informazioni a tutti gli utenti. E più di 600 persone hanno partecipato alla prima assemblea pastorale che si è svolta in diocesi a dieci mesi dall'ingresso del Vescovo Andrea Migliavacca, un momento di incontro aperto a tutti, a cui hanno preso parte presbiteri, religiosi, religiose, diaconi, membri dei consigli parrocchiali, catechisti, coristi e anche quanti svolgono ministeri nella comunità ma anche rappresentanti dell'associazionismo, giovani che da ogni zona del vasto territorio di Cortona, Rezzo, Sansepolcro hanno risposto eccome all'invito del Vescovo. Il Vescovo Andrea Migliavacca ha anche comunicato in questa occasione alcune nuove responsabilità in diocesi. Il delegato Vescovile per i cammini formativi è Don Enrico Gilardoni, il delegato Vescovile per la pastorale sarà Don Adalberto Tarasiuk, il delegato Vescovile per l'economia e l'amministrazione Don Vittorio Gepponi, il delegato Vescovile per la chiesa nel territorio Don Aimee Alimagnidop, il delegato Vescovile per i ministeri e il laicato Don Stefano Scarpelli e ancora il moderatore Curia e la suor Anna Lisabini, il direttore della Caritas sarà Don Fabrizio Vantini, il vicario generale Don Alessandro Conti. I nuovi incarichi, salvo quello del direttore della Caritas diocesana, avranno inizio da lunedì 6 novembre. Tutti i sacerdoti continueranno a mantenere il loro incarico in parrocchia. A queste nomini si aggiunge anche la conferma di Mauro Conticini come presidente dell'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, già resa nota nei giorni precedenti. E adesso parliamo di musica e di solidarietà, un concerto di solidarietà dell'Associazione Voce in Campo a favore di Caritas e Unicef. Vediamo. Un canto per, è proprio la nostra voce regalata a loro, che possa servire veramente a tutti i bambini e a tutte le persone che hanno bisogno d'aiuto in questo momento. Una serata di musica e solidarietà per l'Unicef e la Caritas, un momento di canto corale nella cornice di Santa Maria della Pieve con l'Associazione Voce in Campo. Il concerto, la musica, è la cosa che unisce tutti, ma che fa capire a tutti quali sono i diritti di tutti i bambini. Soprattutto perché ci si mette di fronte a sempre più povertà, sofferenze, miserie, che non sono più quelle di una volta e basta, che mancava qualcosa in casa. Oggi c'è anche situazioni particolari, anche nel mondo giovanile, quindi bisogna stare molto, molto vicini e molto attenti. La serata musicale si è aperta con un esempio di unione, integrazione e inclusione. In scena il grande coro Mani Bianche, formato dai coristi del coro Mani Bianche, dal coro Voci Bianche e Giovanile e dal coro Cantori di Vita. Faremo tutti i canti tratti da poesie famose, di Pascoli, di Annunzio, di Rodari, di Piumini. Poi avremo un momento di meditazione con quattro canti mariani. Concluderemo con la messa di Gonoscia, che è una messa piena di gioia e di allegria che è stata proprio scritta per salutare un grande maestro di cappelle. Quindi ha dentro gioia, ma nello stesso tempo malinconia. L'autoraduno di ACI Storico, dedicato al prestigio delle auto d'epoca, arriva ad Arezzo. Domani ruote nella storia, parte da Arezzo e arriva in piazza del municipio a Castiglian Fiorentino. A rendere possibile questa tappa a Toscana c'è la collaborazione dell'Automobile Club di Arezzo, presieduto da Bernardo Mennini e diretto da Silvia Capacci. Gli equipaggi partecipanti alla manifestazione saranno accolti dai rioni con i suoi spavillanti colori e le suggestive melodie delle chiarine e dei tamburi. Successivamente è prevista una visita al sistema museale castiglionese. E in chiusura allo sport, le parole di Mr. Mike Heracleus alla vigilia della partita contro la Lazio Women, la terza giornata di campionato Serie B in programma domenica 8 ottobre alle 15 allo stadio comunale di Castiglian Fibocchi per le donne dell'ACF Arezzo. Sentiamo. Aspettiamo sempre una gara competitiva, molto competitiva, dal punto di vista tattico anche, molto preparate, le ragazze individualmente della Lazio sono molto capaci, però noi abbiamo fatto sì una molto molto intensa e competitiva gara contro loro verso tre settimane fa e facciamo la stessa cosa anche domenica, quindi noi entriamo in questa partita pieno sempre di motivazione di fare meglio e meglio della partita passata, quindi è quello che è l'obiettivo. Le ragazze hanno sentito anche loro che contro il schievo hanno dato tutto e va bene fra i ultimi 12-15 minuti quando abbiamo questi due gol nel contrapiede hanno sentito anche le ragazze che può succedere questa cosa nel calcio, però la prestazione in generale era lì dove lo vogliamo con tutta questa intensità, quindi per motivarle non era molto difficile perché hanno sentito da sole anche che le cose che hanno fatto erano giuste e la stessa cosa succederà anche domenica, entriamo con questa mentalità e siamo pronti. E questa era anche la nostra ultima notizia, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. Grazie.